Nella partita di andata vinta da Siena, 91-87, un altro super protagonista del Bonte dei Paschi è Rimantas Kaukenas. Rimantas Kaukenas, altra tripla, rimantas Kaukenas, sorride pianigiani. Kaukenas Legge la situazione di cronometro dei 24 e poi punta il ferro alla velocità della luce, Rimantas Kaukenas, uno contro uno per Kaukenas, è una poesia, Rimantas Kaukenas. Kaukenas, a tutta velocità, va a realizzare, a subire il ballo. È una poesia, rimantas Kaukenas. Kaukenas.